e bentornati amici della leggi italica samore voro che vi parla oggi siamo tornati col secondo episodio con drasois il cinereo la scorso episodio cosa abbiamo fatto abbiamo preso la baia di roccia frantumata le torri rottame e dopo aver eliminato gli ogre i nostri amici iniziali siamo andati in guerra con elman gorst e in una battaglia piuttosto epica e lunga abbiamo vinto decimando le sue forze che ci ha consentito di conquistare la foresta infestata e di tramutarla in una fabbrica per generare armamenti produzione di armamenti che comincerà tra due turni e ora dobbiamo decidere dove andare potremmo cominciare ad andare verso krakaten che è infestata da scaven e ci consentirebbe una volta conquistata di scambiarla con grisus che al momento è diciamo neutrale ma non ci vuole molto bene mentre gli scaven ci odiano proprio al fine di ottenere magari un patto di non aggressione o qualcosa del genere tenerci grisus buono ci coprirebbe tutto il nord per quanto riguarda invece a sud c'è porco baratto la torre del dolore qua c'è anche la roccaforte oscura che ci dividono da imrik che al momento è fermo alla fortezza di vorag e dal sepolcro di anurel e quindi direi che una volta fatti fuori gli scaven di krakaten krakaten madonna è uno scioglilingua ci sposteremo qua sud verso il buon porco baratto che non si sa mai direi che possiamo passare il turno e attenzione perché le pelle di denti a sciabolo che si muovono e basta non vogliono attaccare il nostro barba di ferro che è a fianco a krakatum quindi qualsiasi nano dovrebbe ucciderlo e adesso andiamo a vedere una nuova meccanica dei dei nani del caos probabilmente la meccanica più unica che hanno che è la torre di zar la torre di zar è composta da tre distretti uno magico uno militare uno industriale che hanno quattro livelli rispettivamente tra livelli per i distretti poi c'è un quarto livello in generale ogni questa se ogni sede da dei bonus differenti e una volta che tutte le sedi in un distretto sono state occupate o da noi o dagli altri nani del caos il bonus per il distretto verrà applicato a tutte le fazioni nani del caos quindi ci sono delle ragioni per andare a collaborare con altri nani del caos ora qua vi do un'occhiata veloce vi faccio dare un'occhiata veloce però quello che secondo me ci conviene prendere sin dall'inizio è faccendiere che ci dà 100 materiali grezzi per turno e inoltre ne produciamo il 5 per cento in più quindi la cosa è molto buona anche perché dal prossimo turno avremo due armaioli che ci produrranno armamenti e questo sarà una cosa molto molto carina anche perché dobbiamo cominciare a pensare anche a tanto mettere via i soldi per il livello della cenere che ci daranno i nostri nani del caos con trombone madonna ragazzi da quando ho visto quella roba lì e poi dovremmo cominciare anche mettere via armamenti perché vorrei poter avere i cannoni magma al prima possibile detto ciò la roccia scorticata è appena stata migliorata e direi che stiamo cominciando a andare un attimino basso come numero di soldi che facciamo ne facciamo 1200 quindi possiamo fare la fossa del denaro oppure possiamo fare il campo di arruolamento però goblin che penso che sia un po meglio inoltre miglioriamo anche il pozzo minerario che aumenta sì il numero di lavoratori richiesti per ottenere un certo numero di minerali ma i minerali che produciamo aumentano da 2 a 300 quindi molto bene inoltre abbiamo finito di ricercare i proiettili cavi qua potremmo fare addestramento variegato che non è male oppure la sindrome della fortezza o andare per la gilda dei mercanti che poi ci porta a migliorare i convogli sinceramente questo questo ramo non è il massimo direi che possiamo andare per allora la stregoneria prendendo le torri più alte ci dà il campo visivo durante la campagna più 15 per cento e uno di controllo in tutte le province controllo che potrebbe cominciare a servirci inoltre qua feng pan è alla baia di roccia frantumata ci scaricherà un carico e noi saremo belli tranquilli vediamo prima però se gli scaven che sono qua a nord vogliono un patto di non aggressione per 1300 sì ok gli scaven adesso non dovrebbero attaccarci almeno per i prossimi turni questo significa che con drasua noi possiamo viaggiare molto più velocemente andare direttamente a sud a far fuori questi peperini dei dei pelle verde in zona il che è molto interessante qua cuga buongiorno padre direi che è arrivato proprio nel momento giusto per tutti noi ok abbiamo prodotto armamenti la nostra una carovana è arrivata che cosa è successo allora guerra dichiarata tra rubateschi e signori vabbè ok mantieni otto unità di questo tipo goblin cavalcarupi ragazzi lupo di ogla can hobo goblin cavalcarupi arceri o tagliagole oppure altro per ricevere gordaz il traditore che a quanto pare abbiamo ricevuto perché abbiamo a quanto pare l'abbiamo completata senza nemmeno sapere che la dovevamo fare quindi benvenuto gordaz mettiti pure assieme al resto della nostra ma non ne abbiamo otto è quello cioè ne abbiamo sei di hobgoblin è stranissima questa cosa facciamo miglioriamo qua e voglio tenermi via i materiali grezzi perché qua ce ne servono 1350 per migliorare la turbina e migliorare la turbina è la prima cosa che dobbiamo fare per partire con la nostra missione quindi continuiamo ad andare avanti così abbiamo adesso un sacco di di schiavi in più ma vediamo perché abbiamo dei demoni affamati se i demoni che abbiamo incrociato dicono il vero attraversare i regni deve mettere parecchio appetito potresti scegliere di soddisfare la loro volacità nella speranza di evitare lo scontro ma dall'altro canto anche la morte placerebbe la loro fame e andiamo a far fuori un'armata non demoniaca fantastico beh direi che vogliamo provare il dreadquake mortar quindi li uccidiamo tutti malamente non ci sono proprio dubbi su cosa andremo a fare il cannone da solo farà fuori tutta la loro fanteria poi dobbiamo stare attenti a specialmente i cani perché penso che le unità di fanteria mostruosa le possiamo fare fuori senza particolari problemi o almeno questa è la speranza vediamo un po' come la mappa si si allora mettiamo così mettiamo i nostri nani del caos con blunderbuss in questa posizione io non li chiamerò mai tromboni mai non è vero dai chiamiamo mettiamo i nostri trombadores lì vediamo di fare una bel un bel incastro con al centro in modo da bloccare i colpi cioè in modo da bloccare i corpi dei nemici il nostro lord ok vediamo vediamo di iniziare a fare del male qua chi spariamo ha questi avrà sparato a chi ne ha voglia però fa niente noi cominciamo a muoverci perché la cosa molto bella di questi eh dai un po' di danno li ha fatti non troppissimi gira il tuo gira il tuo cannoncino e daie 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 te prego ole grazie mille ha sparato finalmente a chi non si sa vediamo se riprende vediamo se riprende vediamo se riprende quasi preso in pieno la cosa mi piace e qua stanno facendo un po' fatica non sanno cosa fare ok sembra che l'assalto principale arriverà da sinistra quindi prepariamo gli ob goblin ok qua stiamo sparando bravissimi il nostro versier e gli ob goblin possono sparare sui troll del caos tanto sono arcieri quindi non hanno problemi di line of sight i danni ok i cani sono stupidi quindi caricano lì questi invece sembrano più intelligenti ok abbiamo finito questi continuiamo oh qua ci attaccano gli ob goblin allora andiamo qua attacchiamo sia con i nani guerrieri anzi nel caso li portiamo qua difesa e si esatto attaccano gli ob goblin ma ci mandiamo su l'iron demon e poi comunque stiamo perdendo solo gli ob goblin quindi non nani del caos oh ma che bellino adesso li mandiamo in rotta perfetto terrorizzati quindi non abbiamo nemmeno avuto tanti problemi e qua invece c'è un gigante del caos che potrebbe dover richiedere l'attenzione dei nostri blunderbuss almeno per qualche millisecondo si direi che qualche millisecondo lo richiedeva allora ritirata assolutamente si qua facciamo fuori questi via e qua invece abbiamo dei problemi bravissimo il nostro trenino ciuf ciuf il ok voi sparate a questi voi li siete messi un po' nella posizione sbagliata ok siamo riusciti a bloccare loro blocchiamo anche loro e allora giriamo i nostri arcieri che tanto adesso sono inutili il il canone madonna qua adesso ci faremo tanto di quel fuoco amico che la meta basterà ok voi sparate ai cagnolini voi avete fatto fuori questi pensate ai troll tu muoviti e basta anzi spara a questi già che ci sei voi fate fuori troll le donne cadono come mosche ok una volta che abbiamo fatto fuori il troll ci spostiamo sul fianco questi li spostiamo qua dietro e al posto di far fuori i cani vediamo di far fuori gli le progenie del caos che sono l'unica cosa che è rimasta viva dall'esercito nemico quindi un paio di colpi ben assestati appunto li manda senza problemi all'obitorio direi che la partita è andata abbastanza bene siamo riusciti anche a difenderci molto bene da questi demoni che ci hanno attaccato mi piace mi piace l'idea mi piace quello che è successo e poi ragazzi il dreadquake il dreadquake 102 uccisioni praticamente la fanteria nemica non ha nemmeno toccato le nostre linee per questo e ci prendiamo della mano d'opera ovviamente non mi sembra nemmeno ok si è ricercata la tecnologia sulla stregoneria facciamo si le preparazioni pandemiche ok qua adesso abbiamo i soldi e abbiamo le robe per fare la linea d'assemblaggio il livello della cenere e facciamo la ferreria perfetto questi saranno pronti tra tre punti ma noi abbiamo 1300 schiavi di cui 200 se ne vanno giù adesso perché siamo male siamo messi male quindi a sto punto direi di fare una cosa interessante allora noi i nani del caos con trombone non li potremmo reclutare perché non possiamo aumentare la loro capacità però se facciamo la ferreria subito che ci costa 270 schiavi potremmo reclutare sin da subito i cannoni magma e quindi penso che questo sarà il nostro piano abbiamo spazio per addirittura due cannoni magma e quindi vediamo di costruirli per due turni quindi saremo qua fermi non possiamo migliorare altro se non no dai nient'altro la fortezza infestata sta andando bene e ora abbiamo iniziato a produrre armi vediamo cosa succede c'è un clan che non conosciamo che mi sta spostando Toxer aveva non andrà ah perché ci siamo vicini ai suoi territori va bene va bene allora entra in guerra con gli lula luna tranquilli lo stiamo per fare abbiamo costruito degli edifici ci sono guerre dichiarate da persone in giro abbiamo incontrato 4 nuove fazioni ora nella fucina infernale possiamo migliorare i tromboni perché adesso produciamo 126 armi a turno e che non sarebbe male il problema è che se facciamo la costruzione istantanea andiamo praticamente al di sotto no andiamo ad 800 quindi si ce la facciamo ce la facciamo e chi sacrifichiamo per un nuovo trombone in più andiamo a sacrificare uno dei nostri schiavi perfetto dal prossimo turno dovremo avere un sacco di cose carine in più che ci consentiranno nella nostra guerra contro il lula luna a quali a sto punto allora c'è il clan rictus che odia il lula luna quindi se gli chiediamo di partecipare alla guerra contro di loro ci paga anche 1000 quindi abbiamo completato la missione che ti dà 1500 in più ci ha dato 1000 lui fantastico dovremmo avere dei soldi per potenziare questo magari no e inoltre cosa è successo abbiamo abbastanza abbiamo abbastanza miglioramenti ora da poter fare la polvere extra che dà il 30% in più di danni quando abbiamo più dell'80% di munizioni poi qua diamo le bilance migliorate questo qua è il nostro tipo della carovana che sta andando in giro questo significa che ci daranno il 10% in più di schiavi quando andiamo a a venderli e dovremmo essere quasi arrivati sinceramente quindi dobbiamo ricordarci di tenere 750 quasi un po' di più per la prossima carovana e qua dice questo percorso non finisce più il nostro sfortunato convoglio sta viaggiando da molto tempo interminabile e la meta sembra ancora lontana magari passando a queste gallerie sotterranee arriveremo prima destinazione è anche vero che quegli infidi scaven potrebbero decidere di infastidirci ora è un veggente grigio della rovina i veggenti grigio della rovina sono delle pesti delle pesti quindi non ne vale la pena non ne vale proprio la pena ve lo dico io non ne vale la pena piuttosto arriviamo più tardi ma io i veggenti della rovina in quando sono guidati dall'intelligenza artificiale non li voglio combattere semplicemente qua possiamo scegliere tra guardia sfrontata che riduce il costo degli azioni del 20% e aumenta gli eroi reclutabili di uno per i taruk o futuro dei da wizard che aumenta la probabilità che compaiono oggetti magici e che cacchio questa qua è la migliore di sicuro possiamo migliorare le possiamo migliorare questo edificio ma il problema è che ci costa praticamente tutta tutti i materiali grezzi che abbiamo anche perché adesso come potete vedere abbiamo meno mano d'opera di quella che ci servirebbe perché ne abbiamo 735 se ne servirebbe 800 quindi il la carovana che è praticamente arrivata il prossimo turno arriva no tra due turni arriva di sicuro ci aiuterà perché ci farà portare a casa 640 schiavi però comunque dobbiamo starci attenti e poi vabbè ovviamente il prossimo turno attacchiamo porco baratto però bisogna tenere sotto controllo quel numero lì cosa vuole tre scorsa pavida un pato di nuova aggressione sì sei uno scaven la prossima volta te lo rimangi infatti già più o meno sono dispiaciuto del del fatto di averlo fatto con i tuoi amici di a nord ma vediamo cosa è successo ritenendo ritenendo la fusione tra ingegneria nanica e stregoneria demonica un abominio della peggior specie i nani d'occidente hanno inviato una schiera di guerrieri contro le te che i due aritaghi marcino di loro spontanea volontà verso l'altare sacrificale di ashut come giusto che sia così noi saremo un passo più vicini a rinvenire e profanare le reliquie a cui tanto tengono abbiamo quindi una una quest da fare da fare una battaglia che possiamo fare quando vogliamo ma magari vediamo di migliorarci un attimo prima ecco anche perché non so non mi sento ancora pronto direi che qua miglioriamo questi e attacchiamo porco baratto un'armata molto interessante quella di porco baratto e soprattutto una battaglia estremamente interessante avete visto la mappa? assolutamente la dobbiamo andare a combattere una roba del genere va combattuta tantissimo secondo me questa qua deve essere una mappa nuova perché non l'ho mai vista però è stupenda perché noi abbiamo i cannoni magma loro ci dovranno caricare e noi abbiamo i blunderbuss e abbiamo il vantaggio del range e possiamo stringerli in una in una dei due passaggi a nostra scelta questa deve essere una cosa super allora quale parte vogliamo mandare verso di noi questo di sicuro perché perché qua hanno dei troll qua hanno tanti arcieri in più e soprattutto qua hanno più forze quindi per riposizionare quelle noi facciamo in tempo a fare fuori queste sempre che si li raggiungiamo proprio c'è un problema però mi sa non li non si no sono a vista d'occhio perfetto magari di questo no si ok portiamoci qua avanti e direi che per prima cosa mandiamo avanti gli goblin e gli schiavi poi teniamo questi in seconda fila con i nani del caos pronti a seguire voi vi mettete qua nel boschettino in caso decidano di fare tutto il viaggio non lo posso mettere forse si no volevo prendere il pennellino ma non si può fare comunque se vogliono fare tutto il viaggio di qua li blocchiamo e qua adesso abbiamo anche la nostra squadra eroica perché abbiamo gordaz e il nostro il nostro eroe il nostro eroe che metterò a sto punto assieme a le unità da tiro lo mettiamo qua assieme alle nostre belle unità da tiro gordaz rimane numero 5 e voi 4 e voi 3 8 perfetto allora i cannoni magma di che inizino a sparare ok perfetto allora i cannoni magma stanno iniziando a sparare noi cominciamo a portare avanti le nostre unità qua i nostri tiratori su quindi questi un po' più avanti ok 8 qua 5 drasorum andiamo in avanti cadai fireborne a proteggere il tutto anche perché qua mi sembra di capire che nemici vogliono avanzare più che più che altro ah interessante allora facciamo sparare a questi orchi ragazzi e a questi orchi ragazzi gli orchi sono molto più pericolosi dei goblin e soprattutto se possiamo mandare o drasoa o i nostri lavoratori non pagati a distrarre i nemici o anche gordaz gordaz sarebbe perfetto dovremmo riuscire a punirli non male anche perché adesso gli tiriamo questa con questa riduciamo la loro velocità del 20% aumentiamo del 20% i danni che subiscono dai nostri cannoni fantastico e attiviamo i dadi sbiechi che gli hanno dato 40% di resistenza fisica stavolta molto bene ui i danni i danni che stiamo facendo ragazzi allora portiamoci qua un po' più vicini intanto spariamo alle unità che ci sono indietro ok gordaz è a posto e intanto qua non sono ne ancora arrivati facciamo tempo a voltarci e a fargli malissimo i danni ok si stiamo facendo dei danni enormi gordaz vai ad attaccare questi gli schiavi li inseguono che così siamo sicuri che non tornano indietro o perlomeno se tornano indietro almeno adesso dovrebbero essere indeboliti e sapete cosa facciamo ci mettiamo qua sulle rive che dovremmo riuscire a sparargli mentre arrivano mandiamo in rotta questi i nostri schiavi li mandiamo lì e poi gli hobgoblin li portiamo indietro e cominciano a difendere qua tanto una volta che questi li abbiamo mandati in rotta una volta quando torneranno si scontreranno con i nostri blunderbass i nostri tromboni scusate i trombador trombadores allora tu riesci a sparare da qua la si ma non c'è nessuna unità che ci sta passando quindi riesci ad avvicinarti un po' di più si a voglia da qua dovresti riuscire a sparare senza problemi sei tu magari che avrai qualche problemino ecco dai ti mettiamo qua direi che possiamo far ritirare gli schiavi voi state tenendo anche fin troppo bene vediamo un po' oh mio dio che bello oh 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 fantastiche fantastiche queste animazioni ok stanno andando in rotta perfetto prendiamo il nostro lord il nostro eroe li portiamo qua i nostri cannoni a magma stanno iniziando a sparare si ti prego sparate a qualcosa qualsiasi cosa è meglio di niente oh bravissimo allora io ti metto qua a questo e purtroppo stanno sparando i troll al posto degli arceri goblin ma va bene così ok va benissimo tanto adesso qua la guardia infernale e i tromboni vedrete che faranno dei danni ok qua continuano a sparare ce l'hanno con questi due troll anzi questo troll e basta e qua come va qua come va stanno venendo proprio presi a bastonate penso voi sparate a volte grazie morti tutti è questo che mi piace dai adesso questi qua quando entrano in range li stunniamo eccoli qua e noi spariamo anche se qua ci sono gli schiavi chi se ne prende poi non si dice schiavi si dice lavoratori non pagati e involontari però fa niente ok direi che qua la situazione si è tranquillamente messa a posto da sola hanno diviso il loro esercito però ok visto che hanno diviso il loro esercito questo potrebbe essere un problema che bisogna capire quale parte arriverà prima da noi ma noi mandiamo qua le vilcanaglie o i cattroles che dir si voglia e teniamo qua gli schiavi quindi dovremmo riuscire a resistere all'assalto e anzi facciamo avanzare leggermente i nostri linei del caos in modo che abbiano un po' più di di spazio libero qua stanno venendo massacrati all'approccio proprio perché i cannoni a magma che gli sparano addosso gli stanno facendo dei danni clamorosi anzi li mandano quasi in rotta il che mi piace molto allora qua vediamo di spostare loro ok e vi andare allora vediamo di rallentare i lupi che di sicuro erano lì ma ora non ci sono più ok ok i lupi sono stati rallentati qua dal fronte non abbiamo buone notizie perché stanno arrivando e stanno arrivando in fretta ok perfetto dovrebbe continuare tutto così facciamo gli facciamo prendere le prime schioppettate e poi li carichiamo direttamente con i tagliagole con le vilcanaglie scusate ci sono delle traduzioni incredibili perché catroats sarebbe tranquillamente traducibile con tagliagole ma hanno deciso vilcanaglie è bellissimo però ah no i tagliagole sono questi ok niente stanno venendo massacrati all'approccio il che va non bene di più e qua avremo i troll contro i quali dobbiamo andare gordaz contro i quali dobbiamo andare drasua gordaz intanto si è preso un'altra resistenza fisica del 40% e adesso utilizziamo questa per dargli un'ulteriore debolezza da fuoco in modo che i cadai fireborn praticamente li massacrino guardate quanto velocemente è andata in rotta questa unità molto molto bene secondo me qua è praticamente andata dobbiamo solamente caricarli qua intanto vedo una bella smoke bomb qua i nostri ok i nostri hobgoblin stanno combattendo contro i goblin e qua invece quello che doveva succedere è successo attacchiamo secondo me la vinciamo ora giriamo i cannoni infernali giratevi praticamente sul posto e sparate a questi maledetti ok fantastica battaglia mi è piaciuta fin troppo guardate la potenza dei cannoni infernali è davvero clamorosa cannoni magma scusate non infernali però scusate 500 chi la testa se le son portate a casa e ai nemici ne sono morti cosa sui 2000 in totale quindi gli abbiamo fatto davvero davvero tante perdice cioè più della metà i nostri cannoni bene direi che la occupiamo come avamposto e qua non ne abbiamo bisogno anche se in realtà possiamo tenerlo a porco baratto ci liberiamo di questi orchi schiavi prendiamo un tagliagole e un vilcanaglia in più in modo a non avere nessun tipo di schiavi nelle nostre armate poi prendiamo evasione e tra il mantello infernale e le fiamme di azgor direi le fiamme potrebbero tornare più utili qua prendiamo protezione dalle esplosioni sconto diretto e qua rinforzo truppe l'arma sanguinante perfetto vediamo se ci sono edifici a potenziare qua non solo le torri rottame ma vi ho già detto prima perché non le potenzio e continuiamo così oppure no continuiamo decisamente così gli armamenti li teniamo se poi troveremo un uso migliore per questi armamenti così sia però ce li teniamo anche perché appunto magari veniamo anche ricompensati perché accumulando 400 armamenti abbiamo tesorerie e materiali grezzi poi radiasuolo un insediamento appartenente a qualsiasi dei seguenti nemici dell'armata di zar e non hanno nemici fantastico e poi il convoglio è stato completato e all'armata del nostro barba di ferro è stato aggiunto un drago ogre shagot e un mutante obbediente molto bene quindi possiamo far partire un altro convoglio qua cosa abbiamo sempre il tiratore scelto o resistenza metallica che ha le spade di ferro infernale e niente questi sono decisamente alcuni tra le migliori unità del gioco quindi di sicuro allora non produciamo ancora abbastanza armi da poterle vendere a fiordo dei troll penso che ci siamo appena appena stati direi che andiamo alla baia delle lame si sette turni di viaggio alla baia delle lame di sicuro ci vorranno bene gordaz amicissimo diamo sfuggente e attacchiamo la roccaforte oscura speriamo stavolta di poterla attaccare davvero no la cosa è molto 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 disappointing devo dire la verità scogliamo capacità di trasporto e bilance migliorate entrambe fantastico possiamo sempre potenziare i soliti edifici qua no la torre la torre la potenziamo tranquillamente senza problemi proprio la voglio potenziare subito subitissimo anche perché la cosa bella di Night of Chaos è che non crescono con i metodi normali cioè non crescono utilizzando la crescita e tutto il resto tu una volta che hai materiali puoi costruire la torre più grande quindi sono la fazione che può arrivare al tier 5 nel tempo più veloce ed è una cosa che mi piace molto allora qua possiamo scegliere se avere un'unità di ogre mangia uomini pagando 1000 dei 2800 che abbiamo adesso a disposizione o dirgli di andarsene io direi che un'unità di ogre in più fa sempre bene passiamo poi alle attività produttive e facciamo la gilda portuale perché voglio cominciare a scalare questa zona roccaforte oscura stavolta la conquistiamo sempre un avamposto e facciamo un avamposto che ci produce dei soldi e abbiamo preso soffio soffio di cenere il nostro carissimo qua perfetto stavolta ci prendiamo il martello infernale e direi che con roccaforte oscura e porco baratto sotto il nostro controllo aver provato qual è la potenza dei cannoni magma noi ci possiamo vedere alla prossima ciao a tutti ragazzi